Definita l'anticipazione della cassa integrazione su tutto il territorio regionale, salvaguardati alcune centinaia di lavoratori esodati e stabiliti criteri per la decretazione della cassa inderoga. Questi tre importanti risultati che la CIS Lombarda perseguiva da tempo, ottenuti questa mattina nel corso dell'incontro tra sindacati e l'assessore al lavoro Valentina Prea. È un accordo molto importante, abbiamo lavorato tanto in queste settimane per aggirare molti ostacoli, però oggi possiamo dare una buona notizia ai tanti e troppi lavoratori che vivono questa dramma della cassa integrazione, e soprattutto il dramma di prendere con grande ritardo questo salario ridotto. Attraverso questo accordo nei prossimi giorni potremo essere in grado di poter dare a loro l'opportunità di poter ricevere se sono a zero euro 850 euro al mese, di riceverlo subito e almeno da questo punto di vista credo che sia una risposta concreta che diamo alle persone che si trovano in difficoltà. D'altronde la strada per tutelare i lavoratori per uscire da questa difficoltà e fare accordi ogni giorno, contrattare, costruire alleanze, vedere di dare risposta. Oggi è una buona giornata perché a tante persone in grossa difficoltà gli diamo almeno una buona notizia e una buona risposta.